Coinvolge anche Prato l'inchiesta della Procura di Pistoia su un vasto giro di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio che nelle ultime ore ha portato al sequestro preventivo di 52 mila euro in contanti, 123 orologi di lusso, valore mezzo milione, 700 grammi di gioielli, numerosi conti correnti il cui saldo complessivo è in fase di definizione. Due, entrambi italiani, i principali indagati del procedimento che ne conta altri 19 e che avrebbero gestito il mercato di gioielli, pietre preziosi, argenteria e orologi provenienti da furti in abitazione. E' questo il risultato di una indagine della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Pistoia partita ormai quattro anni fa da una denuncia relativa a una sospetta attività di usura. Il giudice delle indagini preliminari ha dato il via libera al sequestro chiesto dalla Procura e finalizzato alla confisca cosiddetta per sproporzione prevista dalla legge per i reati più gravi. I due italiani sono accusati di aver avuto rapporti con Rom e Sinti che vendevano la refurtiva incassando soldi in contanti anche 30 40 mila euro per volta, un passaggio di denaro che è stato documentato dagli inquirenti. Ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio si aggiungono la contraffazione e lo spaccio di stupefacenti contestati a vario titolo agli indagati che hanno portato gli investigatori in mezza Toscana, oltre Pistoia e Prato anche Arezzo, Pisa, Lucca e Firenze. Molti di loro sono stati traditi dal tenore di vita assolutamente lontano dall'ammontare dei redditi dichiarati, tanto che le indagini patrimoniali hanno confermato i sospetti.